Ciao, mi chiamo Vincent, sono canadese di Quebec City, ho 44 anni e questo è il mio collega. Ciao, lui è Vincent. Ah, io? Sì, tu. Io sono Sebastian, ho quasi la stessa età. 47 anni. Ci siamo conosciuti alla scuola di circo di Quebec City nel 1997, tanto tempo fa. A volte siamo d'accordo, ma la maggior parte delle volte ha ragione lui. Ma anche io ho ragione e dobbiamo trovare una... Via di mezzo. Una via di mezzo. E usiamo questo, così. Ci prepariamo molto per le nostre esibizioni. Vedete, io sono quello serio tra noi due. E restare ben dritti e tutto il resto. Mi piace quando le persone che detestano il circo vengono a vedere quello che facciamo e dicono Ok, questo è diverso, questo mi piace. Mi piace quando il pubblico è molto vicino. Mi piace la vicinanza. Ci esibiamo un po' ovunque. In Giappone, negli Stati Uniti, in Europa. Dappertutto. Dipende, a volte facciamo spettacoli di strada, di circo, un po' di cabaret. Ci piace fare cose diverse e non sempre la stessa cosa. Acchiappa talenti. Acchiappa talenti. 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 Acchiappa talenti. Eh, acchiappa talenti. Devono scegliere noi? Penso di sì. Yes. Perché è bello stare qui, vero? Sì, poi abbiamo un buon profumo addosso. Proprio buono. Good. Acchiappa talenti. Yes. Choose him. Scegliete lui. Better than me. È più bravo di me. È più bravo di me.